questo è la merda che mi ha lasciato marco questi qua sa chi no perché sono quelli che gli ho preparato io il sacchetto del rudo ce l'ha lasciato lui questo camera da letto questi sono gli armadi io avevo lasciato il dato la casa pulita ma direbbe lenta no ma presto sì tutto qua e questa ci sono anche le strisciate di merda prendiamo figa da pulire con lo spassarone il cerso e ce l'ho eh eccolo qua uno questo qua questo cosa ci fanno i bicchieri lì? cos'è? ma porco dio il terrazzo io l'avevo lasciato pulito io